Presidente, contento di Lamberto Zauli? Che gli è sembrato? Vabbè, contentissimo perché sapevamo il suo valore, viene con delle motivazioni che oggi tutti noi abbiamo bisogno, io come Presidente, la piazza come piazza, quindi siamo contenti, credo che è un allenatore emergente, mi ricorda il primo anno di Ivarini, quindi speriamo che ci porti tanta fortuna e che possiamo iniziare il prossimo anno a fare un buon campionato. Che cosa l'ha convinto nella scelta, perché è stato scelto Zauli? Ma se ti dico che la prima volta che l'ho visto mi ha detto che volevo fare i play-off con il Sant'Arcangelo, ho rivisto me dal primo giorno che ho preso il Teramo, quindi che ha degli obiettivi, poi le cose sicuramente possono andare bene o male, noi faremo di tutto per cercare di rifare con una parte del vecchio gruppo, tanti giovani, la squadra che ha voglia, poi qualsiasi saranno risultati, ma che ci faccia divertire e che si torni ad avere quel giusto entusiasmo che non abbiamo avuto forse l'anno scorso. Un progetto a lunga, media scadenza come sarà con Zauli? Sicuramente un progetto a media, lunga scadenza. Grazie.